Si è chiuso con buoni risultati il terzo bilancio d'esercizio della cooperativa ortofrutticola Fluid Modena Group. Aderente a Conf Cooperative Modena, Fluid Modena Group è un colosso mondiale nella lavorazione e commercializzazione della pera. Ha 548 soci conferenti, 173 dipendenti tra fissi e stagionali, 2400 ettari coltivati e una capacità frigorifera di 650.000 quintali. Ricordiamo che Fluid Modena Group è nata il 4 agosto 2008 a seguito della fusione tra le cooperative Campofrigo di Campogagliano ed Eurofrutta di Sorbara. Possiamo dire che la cooperativa, o meglio il gruppo, ha completato il suo progetto costitutivo, ha dichiarato il presidente di Fluid Modena Group Angelo Barbieri, illustrando il bilancio ai 268 soci intervenuti all'assemblea che si è tenuta al 24 luglio nello stabilimento di Sorbara. L'anno scorso il prodotto conferito ha superato i 510.000 quintali, l'85,8% dei quali costituito dalle pere. La campagna produttiva 2010-2011 ha registrato un calo globale nella produzione di pere pari al 27% rispetto all'annata precedente. Nel 2010 Fluid Modena Group ha realizzato un fatturato di 39 milioni di euro e distribuito ai soci 25,8 milioni di euro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.